Benvenuti, oggi siamo con Manolo Trinci, scrittore e bibliofilo, autore del libro Le basi proprio della grammatica. Benvenuto Manolo. Benvenuto, grazie, benvenuto anche a te. Questo libro che hai scritto ha un'origine un po' particolare, ce la racconti? Ok, questo libro qui, lo faccio vedere, raccoglie tutte le vignette che ho fatto su Facebook negli anni. Ho iniziato nel 2015 facendo delle vignette sulla grammatica italiana, per spiegare l'ortografia corretta, come si scrive, eccetera. Questa, così è nata la mia passione. Ho aperto una pagina Facebook e ho cominciato a fare delle vignette nelle quali spiegavo le regole, le forme corrette, le forme scorrette, eccetera. Questo qui, è nato tutto qui. Poi ho portato queste vignette su Instagram e da lì in poi è nato il libro. Mi hanno contattato per fare questo libro sulla grammatica, per spiegare l'italiano agli italiani, come dice il sottotitolo, e niente, siamo qui. E è andato benissimo, fortunatamente. Ecco, tu hai detto che dal 2015 sei sui social con Facebook, hai aperto questa pagina, si chiama Grammodi, dove appunto parli di grammatica in modo piacevole, con vignette e ironia. Poi si è sbarcato un po' su tutti i social, fino ad arrivare a su TikTok, che è particolare come social, molto di immagine, e quindi raccontare la grammatica non è semplice su un social come questo, ma tu hai oltre 95.000 follower. Qual è il segreto per essere attrattivi anche con una materia così ostica? Io volevo fare qualcosa di particolare, non volevo insegnare qualcosa in modo ingessato, accademico, perché c'è già l'Accademia della Grusca, c'è già Treccani. Visto che c'era l'opportunità di fare video grammaticali brevi, soprattutto di un minuto, anche se adesso si sono allargati a tre, ho deciso di sfruttare questa cosa raccontando la grammatica in modo piacevole, inserendo a volte anche parolacce, dialetto romanesco, per far vedere, per attrarre più persone possibili, per far capire alle persone, guardate che la grammatica non è solo un librone alto, impolverato, pieno di regole, eccetera, eccetera. Nel senso, volevo far vedere loro, volevo mostrar loro com'era la grammatica, c'è un altro lato della grammatica, diciamo così. E quindi ho iniziato a fare questi video nel novembre 2019 e fortunatamente sono andati bene. Quando ho iniziato a fare video io non c'era nessuno che faceva questa cosa, c'erano solo balletti ed esperimenti con Mentos e Coca-Cola, roba così un po' leggera, no? E c'ero solo io che facevo questa cosa e basta. Sono stato il primo a portare la grammatica, almeno la grammatica sono stato il primo. Ecco, però ci hai lavorato sopra perché hai costruito questo personaggio che ha anche quella risata molto simpatica, che incuriosisce e già ti mette piacevolmente sull'ascolto. Ci hai lavorato sopra? Ma ci ho lavorato, sì, un po' ci ho lavorato, però questo è Manolo, no? Ma soprattutto volevo anche far vedere alle persone che l'italiano serve nella vita di tutti i giorni, non è una cosa che sta lì impolverata. Per questo faccio esempi che fanno parte della vita quotidiana, cose che scriviamo tutti, uso anche molto l'italiano parlato, quello che io chiamo reale, no? Che usiamo nella vita di tutti i giorni, non quello ingessato, no? Accademico, infatti non uso mai tecnicismi. Ecco, appunto su questo, tu dici che la maggior parte delle persone conoscono solo un tipo di grammatica, quella in bianco e in nero. Ci spiegi invece qual è la particolarità della lingua italiana, i suoi registri, i vari tipi di lingua che utilizziamo in base ai contesti in cui ci troviamo? Nel senso che noi usiamo diversi tipi di italiano, non usiamo solo un italiano, no? C'è una differenza, ad esempio, enorme tra parlato e scritto, lo scritto è molto più piatto. Invece nell'italiano parlato comunque si può utilizzare a seconda della regione, no? Regionalismi, il dialetto appunto, e poi a seconda anche di chi abbiamo di fronte. Se di fronte a me c'è il professore, ovviamente, il professore universitario, ovviamente utilizzerò un italiano formale, no? Più sorvegliato. Invece se vicino a me c'è, se sto parlando con il mio amico, utilizzerò il romanesco, l'italiano un po' più informale. Questo è. Ci sono diversi tipi di italiano, li usiamo tutti i giorni, senza rendercene conto, tra l'altro. Ecco, allora, per migliorarci, oltre a seguire i tuoi video, è importante anche leggere, leggere tanto, leggere aiuta a migliorarci. Ma in particolare, puoi darci qualche consiglio su cosa leggere e quando? Beh, io leggo moltissimo visaggi, no? Visaggi sulla grammatica, ovviamente, faccio questo come lavoro. Però io direi di leggere anche i romanzi, anche la Divina Commedia, però sempre con un'ottica diversa, con uno sguardo diverso, non accademico, non scolastico. Anche i Promessi Sposi, oppure a me piace molto Kundera, Pasolini, gli articoli di giornale, quelli ti migliorano moltissimo. E poi, soprattutto, leggere attivamente, prendere la penna, la matita e sottolineare, scrivere, in quel modo tu non solo impari i periodi, no? Vedi come vengono scritti i periodi in modo corretto, ma vedi anche gli accenti, come sono posizionati, a differenza tra acuto, grave, gli errori più comuni si fanno perché non si legge molto, no? Anche questo conta moltissimo. E quindi io direi di leggere bene, lentamente e soprattutto di leggere attivamente, con il contatto di matita e sottolineare, eccetera, eccetera. Però i classici, secondo me i classici vanno bene, i soliti classici. Dobbiamo dare un'altra possibilità a questi classici, no? Ecco, Manolo, sui social si incontrano anche persone a cui non piace il nostro pensiero operato, i famosi haters, no? Nella tua attività di divulgatore della grammatica ti sei mai imbattuto in questi personaggi? Ma sì, però quando tu fai il creator devi metterlo subito in conto, questo. Nel senso che ci sarà sempre qualcuno che ti insulta, che ti critica, è normale questo. Però dall'altra parte ci sono anche tante persone che mi danno la spinta per fare, per migliorarmi, perché anch'io devo migliorare, come tutti. E quindi, niente, io direi di non dar retta a queste persone e fare quello che più ci piace. Una curiosità. Tu hai detto giustamente che fai questi video anche perché ti imbatti quotidianamente in tanti errori. Quali sono gli errori più comuni oppure che tu, di solito, in cui ti imbatti nella tua attività giornaliera? Eh, ce ne sono tantissimi. Ad esempio, un po' scritto con l'accento, anziché con l'apostrofo, perché è il troncamento della parola poco. Oppure qual è scritto con l'apostrofo, invece non bisogna mettere l'apostrofo. Oppure, piuttosto che usato al posto di oppure, invece piuttosto che va usato al posto di anziché, invece di, eccetera. E poi le doppie, i plurali sbagliati, non lo so. In questo momento, oppure assolutamente buttato lì, io dico come se fosse parmigiano, no? Ovunque. E invece va usato per le risposte importanti e va usato e vicino va messo sì o no. Mi vuoi sposare? Assolutamente sì. Oppure mi vuoi sposare? Assolutamente no. Non può stare senza il sì o senza il no. Lo spiego anche nel libro, nei video. Ci ho fatto un sacco di video sopra. E quindi ce ne sono tanti. E li commettiamo quotidianamente. Tu fai grammatica e attiri l'attenzione in modo piacevole. Oggi si parla molto di educare con emozioni positive. E tu ce l'hai dimostrato anche in questi video così brevi che danno tanto piacere nel vederli e che comunque fanno educazione. È possibile trasportare questo modo di fare didattica anche all'interno della scuola? Beh, io non sono un insegnante. Però se qualcosa ti piace e gli alunni lo percepiscono, credo che questa materia possa essere ben vista da questi ragazzi. Nel senso che se io vedo che un insegnante mi trascina nel suo mondo, io sono felice di apprendere, sono felice di fare i compiti, sono felice di seguirlo. Mi sembra normale. Invece se davanti ho un burocrate, una persona fredda, che sta lì perché deve, le cose cambiano. E i ragazzi sentono questa cosa, la percepiscono. E ripensando alla tua avventura da studente, come ti ha trasformato? Oppure come hai assegnato il tuo modo di vivere oggi anche l'educazione e la tua attività? Nel senso che, guardi, io ho fatto tutto da solo, nel bene o nel male, io ho preso i libri in mano, ho iniziato a studiare e vedevo che questa cosa cresceva in me e quindi l'ho portata avanti. Non avevo un bel rapporto con i professori, avevo dei rapporti normali, non sono stato fortunato, magari loro non sono stati fortunati ad avere me all'epoca, quindi non so che cosa rispondere. So solo che io ho iniziato a studiare perché mi piaceva. E allora ho detto, ah, questa cosa mi dà tanto, questa materia. Quindi io continuo a farla crescere dentro di me e ho comprato libri, ho letto e mi sono messo in gioco soprattutto. Ecco, questa è molto importante perché a volte, a secondare dei propri piaceri, può darci delle soddisfazioni, come nel caso tuo che hai realizzato questa grande invenzione. Grazie mille. Ci provo, eh, ci provo. Ovviamente quello che faccio non è perfetto, però lo faccio con passione. Grazie a Manolo Trinci per essere stato con noi. Grazie a lei. Alla prossima, grazie a tutti.